Benvenuti ragazzi, sono Angesius Io sono Alex e dopo mezz'ora di video ci abbiamo fatta a farmi mezz'ora di video strano in cui hai sposato il clipe Allora, cos'è cambiato? Devo spiegare tante cose Stai zitto Io sono Vision Vision VIVA Gli Avengers VIVA Gli Avengers Mentre io sono un uomo nero con la faccia a gacca come al solito ma al solito No cavallo! volevo dire che hai cambiato tutto perché io sono ma come hai fatto a portarli qua? perché hai cambiato tutto? perché tu sei un coglione no perché sono un nerd al cazzo ah perché sei un nerd nel merdo potrei tirarlo su perché no abbiamo provato la scena per tre volte questa qua prima che il creeper poi aspetta devo spiegare le cose vieni qua ma scusa ma sono grano infatti c'è le patate allora qua c'è un bel campo di grano poi di qua porta porta entra nella porta patate e c'è stanche rientra nella sì per contare le patate ma non c'è un cazzo rientra nell'altra porta carote guarda quante carote cioè voi pensate a quanto è malattuale sono malato perché ho fatto tutta sta roba e poi guarda viene di qua cane da zucchero di qui dove 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 di qui di qui all'altra porta canne da zucchero con la sabbia perché ci va la sabbia perché ti fai le canne e zucche e meloni ragazzi ho trovato anche i meloni ma scusa ma perché non la fai automatica perché vaffanculo non la voglio ma te la faccio io io mi ho fatto così no poi vabbè e il cacao di qua mamma mia ragazzi c'è cioè io sono un farmer professionista proprio di quelli adesso però per rendere tutto più automatico lo dobbiamo rendergli automatico si con i pistole non so però lo faremo lo faremo qua ah sono dato i cavalli che vedete fuori sono dato i cavalli allora i cavalli che vedete fuori ho detto ho detto vado nella palude così ci sono gli slime faccio fuori gli slime e faccio le cose minzali per i cavalli e che sono morti tipo 50 volte nella palude perché oltre agli slime c'era un 500 creeper cioè mi sono anche perso e non riuscivo più a tornare a casa sei da storia quindi sono andato da una parte tipo a fangulo e ho trovato il deserto con la piramide del deserto cos'hai trovato tu? la piramide del deserto solo che non l'ho spavata ma come hai fatto a crescere questo sull'opiantato? come hai fatto? eh perché è magia ma no ma davvero si si è magia zappa vigna ma non mi manca l'acqua dove hai i secchi? tu lasci le porte aperte guarda non c'è gente cattiva no no il creeper che è esploso prima non lo so l'immaginatore comunque stavo dicendo che ho trovato la piramide del deserto e ho fabbricato due barche appunto per andare ma cosa serve il piccone sconti? no c'erano tutti giù nella cosa che abbiamo fatto mio dio il paratesto guardate che ho fatto centinaia di pescola spara dai spara dai ma non prenderteli spara dai spara dai no 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 non sto facendo niente ahahah perché hai che so la forte qua ragazzi ahahah questo cavallo guava un po contro la legge della fisica perché è tipo si dovrebbe stranso la mare cioè i cani sono qua a cazzeggiare allora dove dovrebbero andare dai di qui verso di qua di qui dove? io c'ho una spada e basta anch'io una spada una spada o un arco vabbè andiamo così io il vero mio cibo ce l'hai tu il cibo dammi nel cibo non tirare le frecce dammi nel cibo io vabbè non voglio di prenderlo me lo dai tu vomito biscotti l'uomo super potere ho il principale va bene va bene va bene mi va bene hai già dovuto stacca? grazie grazie perché non mi fa dentro dove? cioè non mi fa dentro ok si mi sa che tornerò in no no la marca no mi sa che non tornerò c'è del legno nel deserto penso di no è il deserto sai come aspetta eccola qua la piramide la vedo da qua guarda che figa guarda che figa guarda che figa visto che non era tanto lontano io la barca ce l'ho io direi di prenderci anche dei cosi qui c'è una bella farn di i cactus ma fatti i cactus tuoi una bella farn di cactus dove sei? ma perchè tu vuoi centomila robe io c'ho tre cose comunque c'è il legno eccolo qua posso farmi anche una barca to è quello di acacia prendilo che è fantastico perchè esplosa la barca? no perchè c'è della lava lì? perfettamente sincronizzata è la piramide quella cosa lì è della lana è della lana è lana arancio si la piramide del deserto oddio siamo su una ctm ti ho detto siamo su una ctm e dobbiamo raccogliere le lane le lane c'è vuoi fregarti tutto con la lana? io lo farei fregatela però prima entriamo io ti consiglio di mettere le torce aspetta aspetta che mangio perché se c'è qualche tizio brutto tanto con questo 5 legno che ho preso posso farmi un'altra barca per tornare lana si è lana ah ma così c'è lana dove sei? qua adesso ma che cazzo di posto ah di qui ah ma bello ma fantastico tipo cosa c'è? chiuso eh dove si dovrebbe devi spaccare questo devi spaccare la lana la lana? yep cado? oddio ah c'è una piastra quindi tipo aspetta io cado da qua mi faccio male no come che ho? io appena che distruggo la piastra no non si distrugge ah si 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 non lo voglio sapere credo che ci ammazzasse la porca di quella si ci ammazzava si 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 prendiamocela e infatti questo facciamo facciamo un suolo della mimiera non mi dico eh c'è un problema Simo cosa? come ritorniamo? eh scava scava piccolo lavoratore eh lavoratore eh cos'ha? cos'è questa roba blu che c'ho? lana blu eh si è quella che ho spaccato io per scelta ah ok dicevo tu me l'ho presa e sei intrappolato qua dentro per sempre ma io lo so che nel deserto ci sono i villaggi è dopo il pozzo praticamente ah vedi che c'era un pozzo quel pozzo lì vai avanti ah la magna no da il pozzo lì vai dritto vai sempre dritto continuo continuo ah io ho la lana scusa facciamo farci i letti è vero è vero e io ce l'ho cosa ma tu da che parte devo andare? eh quindi facciamo ce l'ho subito perché che parte devo andare? eh quindi dove sono io? ah andiamo al villaggio andiamo al villaggio e mettiamoci il letto in un'altra si oh cazzo sto facendo forte proprio ah ma qua c'è un cratere di dio per atravessare il villaggio la faglia di sant'andrea di sant'andrea no cratere di sant'andrea 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 mardi mi hai capito mi hai capito mi hai capito mi hai capito quale mi hai capito per esempio per 10 i e i i ti ti mi hai capito Adesso mi faccio una crafting table Mi faccio un letto No vado in un'altra casa, è proprio con spaziosi C'è un 500 video E di lì è chiuso alle Me ne ho trovato qua sopra, basta io dormo qua sopra Ah no aspetta Fai una crafting e io la... Eh io posso farmi un letto Lo so, tu? Anch'io Spacco due cori Spacco due cori Lo metto lì, ecco bravo Io metto il seme Ah non so, io torno in parte Mi torno in fuori Guarda che io ho la sella E se non fosse chiuso però Se non fosse... Nooo la barca Mi dispiace ma nuteremo tutte e due Nooo Aspetta l'ho trovata anch'io la piramide deserta qua Intanto mi rubo un po' di là Dove eravamo arrivati? Arrivati da qui nooo Dove eravamo eravamo E dove arrivati eravamo Oddio chiudiamo l'episodio Ma che... No, arriviamo a casa e chiudiamo Eh di certo Dobbiamo far vedere che siamo l'estero e arriviamo a casa Dai ruotiamo tu Ah dove sei tu? Sto ruotando Non lo so Però dai abbiamo fatto una bella roba Ma tra l'altro mi sa che eserciò anche una... Una piramide... No, un tempio dalle jungla tipo Non so se esiste Se esiste... Land! Oh Ok Oh No Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione